Ciao a tutti ragazzi, sono Karen e oggi siamo tornati con un video su Olli e Benji Zero ovvero il gioco che già vi avevo fatto vedere qualche giorno fa ma in versione italiana ovvero hanno davvero rilasciato il gioco in versione globale quindi in versione diciamo anche inglese ma l'hanno rilasciato anche tutto totalmente tradotto in italiano cosa che non mi aspettavo, non mi sarei mai aspettato nella vita mi aspettavo una versione inglese che quindi sarebbe stata più semplice da giocare ma non di certo una versione italiana e invece l'hanno rilasciato in versione italiana cosa che non mi aspettavo totalmente, cosa che mi ha totalmente nani... shocked quindi andando avanti con il discorso il gioco praticamente è basato sull'ultimo anime che è uscito quindi non è nient'altro che la ricostruzione passo per passo di tutto quello che è successo prima di andare nel dettaglio questo video non farà altro che far vedere proprio le basi quindi giusto una parlatina veloce e purtroppo non sto riuscendo a mantenere il mio ritmo di un video ogni giorno perché come per il Dream Festival di tre mesi fa in cui già vi avevo avvertito che non avevo un po' di problemi di salute che non mi permettevano di fare video a manetta purtroppo siamo ritornati di nuovo nello stesso ciclo quindi sto di nuovo un po' a terra purtroppo ho problemi di tiroide da 10 anni e passa che si stanno aggravando man mano che vado avanti e quindi delle volte non ce la faccio proprio a livello logistico statistico e mentale cioè proprio mentale il problema è mentale più che altro quindi andando avanti con i problemi mentali praticamente abbiamo la storia in sé abbiamo anche le varie scene prese proprio dall'anime in modo da farvi dire il tutto il gioco è totalmente tradotto in italiano non so perché qui sia in inglese ve lo dico io perché in inglese perché a inizio gioco alla schermata non ho selezionato l'italiano logicamente da genio quale sono non ho selezionato l'italiano ora lo andiamo a selezionare subito dopo questa partita anche perché questo attualmente è un fresher roll ovvero ho semplicemente riscaricato il gioco per farvi vedere che è uscito in versione Zumba Pereda in versione globale ma l'italiano c'è l'italiano vi assicuro che è presente cosa che mi ha stupito tantissimo perché non mi aspettavo mai e poi mai nella vita che andavano a rilasciare un gioco del genere in italiano vi dico questo perché il gioco in sé non ha creato nessuna aspettativa di nessun tipo cioè nel senso non è un gioco su cui si è creato hype o si sono create delle aspettative un gioco su cui si sono create totalmente zero aspettative anche perché è un gioco almeno che non vengano effettuate nuove impostazioni, nuove abilità, nuove possibilità è un gioco che lascia il tempo che trova cioè nel senso ci giochi o non ci giochi non ti cambia assolutamente la vita a differenza di Dream Team che ha una componente PvP molto ma molto forte qui non c'è nessuna componente di nessun tipo a livello di PvP ma l'unica componente che hai è a livello di PvE quindi siccome l'unica componente è il PvE e non è il PvP automaticamente sei meno incentivato a giocare perché la maggior parte delle persone sono incentivate praticamente a giocare per battere qualcun altro quindi giocare per fare del PvP il gioco purtroppo ha una totale mancanza ma proprio totale mancanza di PvP quindi avendo una mancanza di PvP automaticamente ti porta a non avere la stessa enfasi nel giocare nell'andare avanti nel migliorarti quindi è come il primo gioco per il pubblico globale europeo a livello di mobile perché oltre di Dream Team non abbiamo avuto altro che praticamente non supporta una versione PvP non supportando una versione PvP il gioco può facilmente scocciare può diventare facilmente una cosa noiosa quindi questo è il lato cattivo di questo gioco ora andiamo un attimo a selezionare la lingua italiana prima che è un bravo allora ragazzi la cosa bella quindi la cosa bella di questa versione è che il gioco sembra essere praticamente in pari con la versione giapponese ciò significa che appena inizia il gioco puoi scegliere uno dei personaggi che hanno appena inserito praticamente nel free pool iniziale quando rai rolli sul jap quindi è assolutissimamente una cosa strana perché iniziare in pari col giapponese è una cosa stranissima cioè il gioco qua non parte in concezione che il gioco è appena partito il gioco parte come se fosse praticamente in linea uguale cioè come se fosse uguale al giapponese solo che è tradotto in inglese a slash italiano slash francese slash tutto quello che volete voi la differenza che piano piano noterete è che praticamente i personaggi U16 quindi dei mondiali U16 come Pierre nell'estrazione iniziale sembrano avere un rate quindi la possibilità di poterli prendere è un pochino più bassa paragonati agli altri ma potrebbe essere una semplice impressione mia perché i giocatori delle medie sono tantissimi mentre i giocatori U16 sono pochi quindi automaticamente è molto ma molto più difficile trovare un giocatore come Diaz che è praticamente un giocatore delle medie che ce ne sono con la fiotta, con la pala ora, in questo video sono stato ultra fortunato perché diciamo nell'account principale che ho creato ci ho messo 42 minuti per cercare un solo giocatore U16 e mi sono dovuto accontentare di mi sono dovuto accontentare praticamente di Pierre perché non mi usciva altro mi è uscito Diaz siccome il mio account JAP con Diaz mi ha portato fortuna con la pala prendo Diaz quindi sono sicuro di voler prendere Diaz ora, andando avanti con il discorso l'interfaccia è la stessa del giapponese chi ha provato il JAP ai tempi quando ho detto c'è il JAP stessa identica cosa il gioco è molto generoso con le Dream Ball praticamente sia giornaliere che nel farming quindi non c'è assolutamente nulla da dire i tutorial ragazzi li salto anche perché se volete praticamente provare il gioco e non l'avete mai provato ve li fate con calma anche per chi ci vuole l'anima di Dio per fare tutti i tutorial verrebbe fuori un video da 42 minuti se non da di più oltre questo quello che vi voglio far vedere per cui vale la pena iniziare ora e non dopo è che praticamente skip 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 da vai cacchdella da vai cacchdella abbiamo finito? no 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 naperino lo aveva finito naperino nap 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 nop aveva finito? gaccia MARFUCK YOU BITCH DAI LETS GO MINNA FASTER ecco vabbè Se inizio a insultare in inglese Praticamente vengo bannato lo stesso Da youtube E Jesus Christ Skip 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 Ok perfetto Penso che ho skippato tutto Quindi una volta skippato tutto andiamo nei regali Che è la cosa più E prendiamo le prime gemmine Logicamente non sono abbastanza per fare i primi pull Ma ci sono Nelle missioni ci sono sicuramente altre gemme più altre stamina Quindi prendiamo 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 Assolutissimamente Ok una cosa da vedere E' praticamente i pull che ci sono attualmente Su questa versione Che poi sono gli stessi che ci sono nella versione giapponese Ci sono praticamente 300 pull gratis Cioè 300 free transfer Che significa 30 pull gratis Quindi avete 30 Multi Ovvero un mese di multi gratuita Che è una cosa ottima Cosa che su Dream Team non vedremo mai Ed è in pari con praticamente il giapponese Il giapponese attualmente ha questa cosa Anche noi abbiamo questa cosa Il giapponese Ha praticamente che appena inizi Puoi scegliere quei giocatori che sono fortissimi Perché nel mezzo oltre di Iaz C'è anche Snyder Hamburgo Che tra i più forti C'è Genzo Hamburgo Che è il portiere più forte in assoluto Quindi da vai che accadela Si rerolla finché non esce Praticamente è Genzo Hamburgo Da questo stavamo dicendo Andando avanti con il discorso Che praticamente per il rilascio del global Che poi in realtà ci sono anche sul giapponese La differenza è che sul giapponese Hanno la maglietta dei Samurai Blue Qui invece hanno la maglietta dell'U16 Cosa che onestamente non mi interessa più di tanto Va benissimo così Anzi Va benissimo così Lo step praticamente funziona a 4 step Anche se funziona a 4 step Prima che ci confondiamo Questo banner di sopra è pagato Ovvero tu paghi E ti esce Al 100% ti viene garantito O Misaki O Tsubasa Il fatto che al 100% ti venga garantito Uno dei due personaggi E il costo si aggira all'intorno Ai 12 euro Su per giù Facendo una media Proprio At Kapokyan In sé Per chi vuole giocare a questo gioco Spendere 12 euro Ma avere assicurato Uno dei top giocatori Onestamente parlando Ottimo Perché se parliamo di altri giochi Come ad esempio The Rim Team Puoi spendere tranquillamente 400 euro E te ne esci solo con i messicani Quindi in sé È perfetta come cosa 12 euro All'incirca Per un giocatore Garantito È uno dei giocatori Che ti fa vedere Non un giocatore casuale Uno dei due È perfetto C'è È veramente Perfetto Ora Tralasciando questo Entrambi i giocatori Sono top giocatori Non sono giocatori Scrausi E attualmente C'è praticamente Il banner free In cui potete prenderli Tranquillamente In maniera free Quindi non è che lo shopping È obbligatorio Se volete Se volete shoppare Shoppate Se non volete shoppare Non shoppate Nessuno vi forza A fare nulla Anzi Il gioco è così generoso Che praticamente Questo step Lo potete fare Quante cazzo di volte volete In 12 giorni Basta giocare Praticamente Lo step Funziona con 4 step Arrivati al quarto step In poche parole C'è una multigratuita Non è nulla di particolare C'è nel senso Non è che Arrivato al quarto step C'è Un personaggio garantito Ma sicuramente Una multigratuita Non fa male a nessuno Quindi il regalo Ce lo teniamo Quindi Bla 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 C'è solo Diciamo Tra virgolette Come personaggi Belli Pompati Ci sono solo Tsubasa E Misaki Dell'U16 Ma In tutto il banner Vediamo in tutto il banner Cosa c'è Perché Ci sarà qualcos'altro Ok La possibilità di avere Un SSR Ovvero un personaggio A 3 stelle Che è il massimo Come se fosse un SSR Su Dream Team È del 5% Quindi è solidissimamente Alta come possibilità E ci sono Nel mezzo Tsubasa Ozora Taro Misaki Ah C'è anche Shingo A voi Ci sono due versioni Di Shingo Soda Karate goalkeeper Che è nuova Kishimazu C'è Yuga Logicamente Ve lo vedete di fianco Vi dice Che sono delle medie Perché vi esce Furano MS Senankatsu Hirado Furano To Ok Quindi praticamente Comunque ci sono Una marea di personaggi Da cui Comunque possono Sempre tornare utili Siccome il gioco È appena iniziato Tra virgolette Qualsiasi cosa esce Fa Brodo Ora ci spariamo Insieme La pullata gratis Di cui non mi aspetto Niente Anche perché È la pullata gratis Cioè se mi esce Qualcosa dalla pullata gratis Mi devo solo andare A fare Benamente Bene dire I rate della pullata gratis Sono del 3% Quindi non sono 5 Ma sono 3 Logicamente la pullata è gratis Sono 30 pullate Per 30 giorni Cioè Non voglio confondere Un pull al giorno Per 30 giorni Quindi Assolutissima Il fatto che sia 3% Va bene così Alziamo le manine Va benissimo così Facciamo la pullata Vediamo se ci esce La sculata del secolo Anche se Gne gne Intanto finisco Le missioni giornaliere Su Dream Team Visto che sto un pochino dietro Ok L'unica speranza Ora è che si rompe la palla Sano Che non mi serve Assolutissidente a nulla Ah vabbè Essendo fresh Serve sempre tutto Però Sano Che non serve Assolutissidente a nulla Pasqualino Due stelline Che può tornare utile Nel caso in cui Mi esce la versione Potente Di Pasqualino In modo che Gli passo Cioè gli metto Una tecnica in più Cesterello Che mi sta uscendo Anche nel main account A manetta Cesterello Che alla fine Le skill sono sempre Quelle Se ci fate caso Le skill sono sempre Le stesse uguale Ti dico la verità Sei così Anonimo Cioè oltre averti visto Tre volte Nell'anime Sei così Anonimo Che da vai caccadela Potevi pure non uscire Ozzora Il fantastico Zora Di cui non mi interessa Niente Perché forse per me Tu non dovresti Mai giocare In una squadra mia Però in questo gioco Il fatto che Sei piccolino E c'è la testa gigante Non mi porta Tanto odio Questo è sicuramente Sì Ah no Il tiro aggressivo Che quindi butta le persone Per l'aria Logicamente Cosa distintiva Galvan Che capocchione gigante Che c'hanno Stati di personaggio Ok Tu veramente Sei proprio la feccia Ok Altra feccia Perfetto Uh che carino Capocchia Per concludere Il video E quindi mostrare Che ci sia L'italiano Come avevo detto All'inizio E poi ne sono venuto meno Sono venuto meno Nelle già Terrettelle Penso che stia qua Da qualche parte Penso almeno Suppongo Setting Setting Other Bla bla Player Bla 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 Ok Cambio Lingua Italiano Quindi l'italiano È presente Il gioco è totalmente Tradotto in italiano Cosa che non mi aspettavo Neanche lontanamente I tempi di carencamento Di questo gioco Sono realmente Così corti Così veloci Che il dream team Gli fa un baffo Cioè ci sono tante pecche In questo gioco Ma una pecca Non è la velocità Si può cancellare Riscaricare il gioco E rifare un fresh In 60 secondi netti Cioè ci sto mettendo È lo stesso tempo Che ci sto mettendo A scaricare la lingua In 60 secondi netti Si può rifare un fresh In 60 secondi netti È una cosa Soprattutto perché Chi vuole rerrollare Che magari Fa due o tre pullate Gli svede proprio Che gli va male Rifrescia E via Il mio consiglio Per chi vuole provare Questo gioco Che secondo me Col tempo Andrà a migliorare Quindi assolutissimamente Non scartatelo Perché all'inizio Non è il gioco Più bello del mondo Perché secondo me Questo gioco Andrà a migliorare Non di poco E semplicemente Logicamente Siccome attualmente Ci sono solo Misaki E Tsubasa Rerrollare Non è difficile Non importatevene Di essere il top Del top Ovvero di far salire La squadra Così potete fare Le competizioni PvP Che sono PvP false Non fregatevene Di fare questo PvP falso Ma fregatevene Di avere un account Che abbia Praticamente Sia Olli Che Misaki Non fregatevene Di Diciamo Portare l'account A livello alto Eccetera Ma fregatevene Di avere Tutti i due giocatori Che è la cosa Attualmente Più importante Se Nel roll Avete anche La santa Pazienza Di Dio Aspettate Finché non vi esce Genzo Hamburgo Dopodiché Lo accettate E iniziate Quindi Genzo Hamburgo E via Nel caso in cui Non esce Genzo Hamburgo Ma volete comunque Un top giocatore C'è comunque Snyder Il gioco Comunque Si basa Sui colori Quindi comunque Alla fine Andrà a sbattere Sui colori Poco ci fate Però siccome Siamo all'inizio Dell'inizio I colori Non sono proprio La cosa più essenziale Dell'esistenza Lo saranno Tra poco Ma al momento Potete anche giocare Con quello Che volete voi Purtroppo La cosa dei colori Sta intasando Qualsiasi gioco In qualsiasi Possibile modalità Ormai è entrato Proprio nella mentalità Dei produttori Di ogni gioco Che i colori Ci devono essere Per forza In modo Da rendere Il player Vincolato A diciamo A delle cose Che purtroppo Noi non vorremmo Essere vincolati Purtroppo Non si possono costruire I dream team Proprio perché Il colore Vincola troppo Però Questo è un discorso Molto più lungo Che magari Ne parleremo Un'altra volta Anche perché Mi sta iniziando A venire Il problema Tirodeo Non sto riuscendo Neanche più A parlare Quindi per questo video E todos Vi ringrazio Come sempre Chissà perché Parlare spagnolo Sembra che Mi riesce facile Sembra che Se faccio finta Di parlare spagnolo Mi passano i dolori Quindi Per questo video È tutto So che Non è stato Il video più utile Dell'universo Ma più che altro È stato un video Introduttivo Che magari Vi può Un pochino Tra virgolette Incentivare A giocare Ragazzi Non dimenticatevi Questo gioco Non cestiratelo Semplicemente Perché all'inizio Non è il miglior Gioco del mondo Questo gioco Piano piano Andrà a migliorare Anche perché È il gioco ufficiale Sponsorizzato Dall'anime Siccome L'anime Andrà avanti Anche questo gioco Andrà avanti E questo gioco Sarà migliorato Passo passo Con l'anime Perché sicuramente Con l'uscita Delle nuove puntate Dell'anime Sicuramente Andranno anche A pubblicizzare il gioco Pubblicizzando il gioco Davendo più utenza Perché ricordatevi Che qualcuno Che ci giocherà Ci sarà sempre Il gioco Piano piano Andrà sicuramente A migliorare Siccome il gioco Non è difficile Ed è anche Generoso A livello di pull A livello di Estrazioni Eccetera eccetera Non lasciatevi Scappare questo gioco Solo perché Su carta Non è fantastico Come un Sensei Perché attualmente Tutti parlano Di Sensei Quando io Vi ho avvertito Che Sensei Sarebbe stato Il big Il big deal Quando sarebbe uscito Ma attualmente Non sono stato ascoltato Non tralasciate questo gioco Solo perché Attualmente Non ne è stupendo Tralasciando questo Un'altra nota Di merito Da dare a me stesso È che io ho fatto Il video Due giorni fa Alle 5 di mattina Dicendo che il DC Sarebbe stato Europeo Blu E così È stato Quindi da ora Spodesto Ufficialmente Il sabi Dal titolo Di profeta E divento automaticamente Io il profeta Di Di Tsubasa Quindi ragazzi Per questo video Davvero tutto Spero di essere stato utile Se avete domande Sul gioco Per quello che posso aiutarvi Perché avendo giocato Un pochino Alla versione Jap Qualcosa ne so Potete tranquillamente Chiedermi nei commenti Cercherò di aiutarvi Il più possibile Per questo video è tutto Ci becchiamo Alla prossima